Buongiorno a tutti, Ludovica Ottaviani, Movistruckers, una domanda partendo da una citazione. C'è una frase di Mark Twain che dice, tra tutti gli animali l'uomo è il più crudele, è l'unico a infliggere dolore per il piacere di provarlo, anzi per il piacere di farlo, scusate. Anche per il piacere di provarlo. Anche per il piacere di provarlo, forse. Secondo voi quanto questa frase si adatta ai temi della caccia e la caccia in sé, che metafora insolita è della vita? Parliamo per l'autore. Se hai potuto stare davanti. No, perché oggi ho letto la prima frase di un libro di un paleontologo che dice l'umanità è una merda, per cui mi sembrava un... Proprio così? Sì, l'umanità è una merda. Sì, è legato agli zoo umani. Questa è la domanda, sei l'autore. Marco, dici qualcosa su questo film, come ti è venuto. No, no, vabbè, comunque l'avevo sentita questa cosa di Mark Twain, l'ho letta da qualche parte. Beh, è vero, è abbastanza... Se ti è venuto in mente, secondo me, è inerente al film, al racconto del film e all'educazione sentimentale che viene, che il grande mazzotta rivolge a questi poveri ragazzi sin da piccoli, no? In mezzo al bosco, con i fucili in mano, attraverso quello che dovrebbe essere una, diciamo, uno sport ricreativo particolare, diciamo, già di per sé, che uno sia d'accordo o meno con la caccia. Comunque quello è il primo momento, è un codice se vuoi, è un codice familiare. Ed è uno dei primi, e quelli sono in printing, se ci pensi. Quello è l'inizio della loro vita, e quindi è un iniziare in modo piuttosto tumultuoso e complicato. Quindi sì, è una bella citazione questa di Mark Twain, e ci sta bene, direi. Cos'altro aggiungere rispetto alle parole sagge e colte di Filippo? Sì, per dire, l'educazione è fondamentale, senza essere troppo banali in questa cosa. L'educazione è fondamentale, loro hanno questo padre severissimo che li addestra proprio, come dei piccoli animaletti, ha i meccanismi della caccia, della disciplina, li punisce, li sgrida appena sbagliano a fare qualcosa. Forse il mio personaggio da piccolo è il meno dotato, il meno portato, è lento, è di riflessi, è continuamente stupito, e poi si trasforma in qualcos'altro, perché è come se crescesse senza mai crescere. È sempre osservato da questo bambino che rimane bloccato dal padre con questo fucile troppo pesante per lui. E questo fucile troppo pesante per lui è tutta questa pesantezza che si porta dietro nella vita, che proietta nella moglie, nella figlia. Secondo me è più sfigato il mio personaggio di tutti. E se ci tieni? Questo ho finché raccontato tantissime cose, in realtà. Sono pieno di cassetti che si aprono. La frase di Twain mi fa venire in mente che, poi anche se si è scoperto che esiste anche il sadismo in alcuni animali, ma questi sono dei piccoli militari che vengono addestrati da un padre violentissimo e crescono con delle armi pesantissime. E io ricordo sul set proprio fisicamente quanto era fredda la canna. Siccome io ho la sensazione che nel giro di un annetto, un annetto e mezzo, chi governa questo paese ci spiegherà quanto è bello vivere in America da quel punto di vista. Ecco, io rispetto a questo film, che non è evidentemente il tema, è un racconto laterale, ma è una riflessione che mi viene a me rispetto agli uomini pericolosi. Ecco, mi auguro che si continuino a considerare pericolosi degli uomini armati, tanti nella società civile. Alla prossima! Alla prossima! Grazie.